Il comune di Castellabate patrocinia anche quest'anno la rassegna Libri Meridionali vetrina della piccola editoria del Sud 2021. Giunta alla sua ventunesima edizione proposta dal direttore artistico e culturale il professor Gennaro Malzone, la serata di apertura sabato 17 luglio per l'atteso e ormai tradizionale appuntamento anche quest'anno si svolgerà presso il Castello dell'Abbate tutte le sere fino al 29 agosto. Lo scenario per incontri, salotti, per la presentazione di testi con autori ed ospiti del settore letterario sarà la corte dell'antico maniero e le sale interne al primo piano per l'esposizione di testi di varie case editrici tutte del Sud Italia. Il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri commenta così l'appuntamento culturale. La rassegna vedrà nel susseguirsi delle serate ospiti di grande spessore, presentazione di libri e salotti culturali molto interessanti anche organizzati direttamente dal nostro comune al professor Gennaro Malzone e i suoi collaboratori per la lodevole iniziativa e attività di promozione che non si è mai fermata neanche durante la pandemia va tutta la nostra stima per l'impegno nel rintracciare e far scoprire questi testi che sono la testimonianza tangibile del lavoro di autori ed editori meridionali anche locali ed emergenti.